Folla immensa all'inaugurazione di ieri sera del Bookstore Mondadori in via Mezzacapo a Sala Consirina con il taglio del nastro affidato al titolare del Bookstore Antonio Lullo, al direttore generale della Banca Montepruno Michele Albanese e al sindaco di Sala Consirina Francesco Cavallone. Erano davvero in tanti ieri sera all'apertura del Bookstore dove sono giunti i referenti e soci di diverse associazioni culturali del territorio ma anche i sindaci, rappresentanti istituzionali e tantissimi cittadini, in particolare i giovani. L'immagine più bella della serata è stata sicuramente infatti la presenza dei tantissimi giovani che non vedevano l'ora di poter entrare all'interno del Bookstore della Mondadori dove si sono poi concentrati nella ricerca dei libri che hanno poi acquistato. L'arrivo di Antonio Lullo e Rita Biancullo è stato accolto con grande entusiasmo dalla comunità valdianese che ieri sera è presente in massa per manifestare sentimenti di gioia e ringraziamenti per aver deciso di investire su Sala Consirina. Mondadori a Sala Consirina è un sogno che si è realizzato per quanti credevano impossibile e complicato, soprattutto in questi periodi, vedere arrivare nel centro capofila del Vallo di Diano ed in particolare nel centro della città il brand più importante dell'editoria. Da ieri invece questo sogno è diventato realtà grazie anche all'impegno del Lions Club Sala Consirina Vallo di Diano che attraverso anche la conoscenza con i titolari del Bookstore Mondadori e venuti a sapere della volontà di Antonio Lullo di investire a Sala Consirina, hanno subito supportato in loco le attività per l'individuazione dei locali e per consentire che la Mondadori aprisse il suo nuovo Bookstore a Sala Consirina. Un centro libri che come sottolineato da Rita Bianculo responsabile eventi del Mondadori Bookstore non sarà solo un luogo dove poter acquistare il libro desiderato, ma anche un luogo di incontro e di confronto, un posto dove poter trascorrere momenti di cultura e dove poter stimolare idee al fine di fare del Bookstore Mondadori un punto di riferimento e di aggregazione tra associazioni cittadini e giovani. Il taglio della torta ha rappresentato l'inizio di una serata di feste ed allegria che ha anche trasmesso grande positività e speranza per il futuro. Ringrazio innanzitutto tutte le persone che intervengono alla nostra apertura perché è un momento molto importante, un momento di gioia per noi e anche per la città di Sala Consirina. Cercheremo di diffondere la cultura perché è la cosa principale da diffondere nel Vallo di Diano e spero di fare il mio meglio e di essere un buon promotore del libro. Antonio Lullo, alla Mondadori cosa è possibile trovare e se insomma magari nel caso in cui qualche libro non sia al momento disponibile se è possibile comunque ottenerlo? Possiamo ordinare tranquillamente i libri perché abbiamo un sistema che ci permette di ordinare i libri in 48 ore senza nessun problema e arrivano. E poi ci sono un sacco di reparti tra ragazzi, bambini, gialli, professionali e anche tanta cartolleria. Per questo è difficile non trovare qualcosa. Sono disponibili anche i pacchetti smart box per i viaggi, ci saranno anche tante novità. Poi invece per la parte degli eventi c'è la nostra responsabile eventica Rita Biancullo che lei si occupa proprio della gestione e dell'organizzazione degli eventi perché ce ne saranno numerosi durante il corso dell'anno. Quindi insomma diciamo Mondadori veramente a tutto campo sarà veramente possibile fare cultura in tutti i sensi? Sì, noi ci proviamo di fare cultura. Speriamo di riuscirci al meglio e di dare un grosso stimolo perché noi abbiamo ricevuto in questo periodo, abbiamo ricevuto molto dalla città di Sala Consilina ma dal Vallo di Diano. Speriamo di ricambiare questa gioia che loro ci hanno dato. L'idea che abbiamo fatto insieme con l'Ibraio e anche con la dirigenza di Mondadori perché è chiaro che loro sono sempre presenti anche a distanza in questi nostri programmi e quella di creare eventi locali anche con una firma copie per i giovani perché è molto importante ma soprattutto anche con degli autori che hanno una risonanza anche molto nazionale. Siamo impegnati su questo fronte, sicuramente abbiamo la disponibilità anche ad aprire alle associazioni della zona del Vallo di Diano e in tutto questo poi faremo vedere un piccolo nostro regolamento per accedere alla libreria nei giorni e anche le condizioni di come si devono svolgere le attività. Quindi insomma una volontà di veramente di interfacciarvi con il territorio, di diventare parte integrante di questo territorio, non soltanto un'attività commerciale ma un vero e proprio punto di riferimento. Più che punto di riferimento io lo chiamo salotto culturale. Salotto culturale dove ci sono emozioni di cultura, emozioni di incontro e di dibattito. Bene, quindi da ottobre ci sarà la possibilità veramente di incontrarsi, di parlare dei libri, di presentare quelle che sono le offerte ma anche insomma le novità dei libri per quanto riguarda l'editoria ma ci sarà anche la possibilità di dare spazio magari ad autori locali. Ma questo dipende molto dalle associazioni del territorio che saranno loro i protagonisti a proporre a noi e creare un calendario insieme proprio per far venire fuori quelle che sono le valenze del territorio. C'è un messaggio che lei vuole lanciare al territorio e a questo punto alle associazioni con cui immaginiamo lei voglia interfacciarsi spesso? Io penso che in questo momento così particolare, anche di grande emozione della giornata ed anche questo nostro momento di vita che stiamo attraversando difficile è un grande abbraccio, è un abbraccio alla cultura. Noi siamo un'azienda con 600 librerie in Italia, con un presidio molto capillare sul territorio, anche in realtà non necessariamente grandi o comunque capoluoghi di provincia o di regione. Sala Consilina è una realtà sulla quale stiamo lavorando per uscire ad aprire la libreria da un po' di tempo. Finalmente ci siamo riusciti grazie anche al coraggio imprenditoriale di una persona che ha investito del denaro, investito del tempo, un ragazzo giovane che sicuramente ci dà speranza per proseguire in questa che è un'attività splendida da portare avanti. Questa apertura effettivamente dà tanta speranza a questo territorio, insomma quindi aggiungete questo nuovo punto vendita ai già tanti che avete in giro per l'Italia, quindi cercate un po' di raggiungere veramente tutti con la vostra attività. Sì, noi arriviamo dalla città più grande, da Milano ovviamente, per giungere anche in territori piccoli, in realtà piccole, che però vivono di cultura forse anche di più e hanno l'esigenza delle grandi città. In realtà così piccole c'è una grandissima potenzialità e quindi noi siamo anche molto contenti quando riusciamo ad aprire una libreria e a tenerla in vita, perché poi il gioco passa lì. Aprire una libreria può essere più o meno facile, allestirla con il cuore, con l'investimento di un imprenditore può diventare anche semplice in alcuni casi. Tenerla in vita, tenerla in piedi e proseguire nel corso degli anni è una sfida e noi siamo sempre al supporto dei nostri affiliati. Tenerla in vita, tenerla in vita, tenerla in vita, tenerla in vita, a quello che si fanno! Qualcanzi, un gioco sia più grande,